Rimango io, diventa un po' difficile parlare del proprio lavoro, però vi posso dire che il lavoro è questo, si chiama Limite, è stato realizzato con il Rosso Trento e la mia idea è nata da questa, un po' da questa valle, quello che si vede è il susseguirsi dalle montagne che quasi si incontrano ma non si toccano creando questo spazio intermedio, quindi questi elementi che confluiscono verso l'interno sono anche elementi che stanno per toccarsi, all'inizio di questa avventura parlavamo di orchestra, parlavamo di essere, di riavvicinarsi in qualche modo e quindi questa è una porta, simbolicamente una porta, che vuole che le due parti, simili ma diverse, provino ad avvicinarsi, ad incontrarsi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie per l'esperienza splendida, anche tu hai dato il massimo, quindi grazie. Bravo Francesco, bravo, bravo, bravo. Grazie, bravo. Complimenti, grazie. Grazie.